poi tutto tornanti mattiene non è vero Grazie a tutti. 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 Andiamo. Andiamo. Che vi devo dire. Grazie a tutti. Adesso. Andiamo. 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 Andiamo, 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 andiamo a fare benzie più avanti, tre metri. Io ho messo via tutto. Andiamo. Andiamo, andiamo. andiamo, andiamo. andiamo, andiamo, andiamo. andiamo, 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 andiamo. andiamo, andiamo. Tutto insieme disposto al baricentro quando sei in discesa. E' anche un po' l'osso della schiena. Allora. Allora Montesone. Ciao. Come stai? Fin quando ci vediamo così da Dio. Ciao. Grazie. Oggi per forza. Oggi dobbiamo consumare di bestia. Sono i pali che mi preoccupano un po'. Se tanto mi da tanto... Se tanto mi da tanto mi sa che sono un po' vicidi. Se l'hai visto? Non lo so quelli là. Vorrei che siano troppo esagerati oggi. No, stiamo parlando dei pali. Eh? Perché è vero che sono là al sole. Cioè al sole. Sono comunque esposti. Però... Sa che oggi sono tosti. Sbaglierò. Sa che ci conviene muoverci.